Si è svolto in modalità online l'ultimo incontro organizzato insieme a CONAI del Green City Network, l'iniziativa della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile sul tema dei rifiuti. In occasione del workshop è stato presentato il rapporto sui rifiuti urbani e l'economia circolare nel centro l'Italia. Vediamo. L'ultimo appuntamento dedicato alla gestione dei rifiuti nel paese, organizzato in collaborazione con CONAI da Green City Network, l'iniziativa promossa da Fondazione Sviluppo Sostenibile, ha acceso i riflettori sull'Italia centrale. È emerso che Lazio e Toscana hanno fatto registrare nel corso del 2019 indici di raccolta differenziata inferiori alla media nazionale, superata invece da Marche, Emilia Romagna ed Umbria. In particolare, secondo l'indagine condotta a campione tra le città capoluogo di provincia e tra quelle medio-piccole, ovvero tra 50.000 e 15.000 abitanti per un complesso di 31 centri, è emerso che quella più virtuosa è Ferrara con quote dell'86%, seguita da Parma e Lucca all'81%, mentre nove città, tra cui la stessa Roma, si tengono al di sotto del 50%. Per quanto attiene al tasso di riciclo dei rifiuti urbani, la media raggiunta è circa pari a quella nazionale, 45%, ma solo le Marche con il 56% hanno raggiunto l'obiettivo previsto per il 2025, 55%, con Emilia Romagna vicino al target, 54%, in co del Lazio con il 34%. Lo smaltimento in discarica è pari al 20%, con punta del 40% in Umbria. Il rapporto ha infine evidenziato che la regione con il maggior incremento nella produzione dei rifiuti sono state le Marche. Lazio e Umbria ne hanno registrato invece la diminuzione. A questo incontro è intervenuto anche il presidente di Conai, Luca Ruini, il quale ha spiegato come il potenziale del centro Italia nella gestione dei rifiuti sia molto elevato, ma che al contempo servono interventi specifici per il raggiungimento degli obiettivi posti. Tra gli strumenti, Ruini ha indicato il necessario intervento nel Lazio e nello specifico nella città di Roma, il miglioramento della qualità della raccolta differenziata, l'autosufficienza impiantistica dell'area, l'incremento degli indici di ricerca e sviluppo e il maggior dialogo tra le imprese e le istituzioni. Intanto l'obbligatorietà dell'etichettatura ambientale e degli imballaggi messi al consumo sta lasciando spazio ad alcuni dubbi interpretativi, specie per i contenuti da riporre proprio nell'etichetta. In questo senso Conai si è organizzato per promuovere una lettura condivisa dei nuovi obblighi attraverso una consultazione pubblica. È previsto quindi un aggiornamento periodico delle nuove linee guida in materia e sarà messo a disposizione delle imprese anche un apposito tool, etichetta. E proprio per illustrare questi nuovi strumenti, Conai ha previsto il prossimo 28 ottobre, a partire dalle ore 11, un webinar dedicato all'argomento su cui comunque torneremo in prossimità dell'evento. Grazie per averci seguito, l'appuntamento come di consueto la prossima settimana. Arrivederci.